Musica Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono da Exspot e oggi siamo qui tornati in un nuovo episodio di Destiny nel crogiolo Oggi episodio un po' particolare perché voglio unire l'utile al dilettevole Ovvero facciamo lo standardo praticamente, visto che ci da anche il tesoro delle ere così cerchiamo di aprire un altro pacchetto Visto che nell'episodio degli assalti è andata veramente di merda e vediamo se appunto saremo un po' più fortunati Oggi io voglio giocare, vediamo un pochettino, facciamo l'editto della super anima Lo voglio provare nel crogiolo, voglio vedere come viaggia quest'arma Ci mettiamo questo, mettiamo il ghialla come il nostro solito fare nel crogiolo Mettiamo, togliamo questo, mettiamoci i guanti con questo anche se mi ricordo di avere qualcos'altro Allora mettiamo questo che ci danno più intelletto e saliamo di luce Teoricamente dovremmo essere a posto così 370, no no, ok possiamo andare in questa maniera Quindi andiamo allo standardo, facciamo un po' di culi, vediamo com'è quest'arma e prendiamoci il fottuto tesoro Let's go! Giardini Pensi, lì siamo su Venere signori Un classico controllo signori, nulla di che A parte che mi sa che io quest'arma manco l'ho potenziata alla fine Cioè praticamente la stiamo giocando così, nuda e cruda Infatti non abbiamo nessun fottuto perk Quindi ora lo proviamo Vediamo com'è E poi magari più avanti lo riproveremo Con i perk attivati Guarda questo che buccio di culo che stava avendo Ah mamma mia incomincio a smirare, a sfanculare Naturalmente quest'arma non sarà mai come il necro abisso Ma comunque sia, vediamo un po' come si comporta Se riesco a fare qualche uccisione, se non mi prendono sempre in quattro persone Porca troia Eh vabbè vaffanculo, eh vabbè sì Eh vai Quattro persone, cinque persone, tutti insieme Complimenti Non mi romper cazzo, eh per favore Non mi romper cazzo Eh dai però Che costo drago Criptico di merda È la seconda volta Guarda quest'altro Guarda Oh Guarda io la mia fortuna Sono dovuto andare Tra tre bivi Io sono andato proprio in quello che c'aveva la superattiva Cioè veramente una cosa incredibile Eh vaffanculo Pensavo fosse un nemico quella cosa gialla Dai Senti io mi cacolo, ciao ti lascio, eh Perché Ok Guardate questi Guardalo, guardalo Guarda Che cos'è? Che cos'è? Te ne affanculo, merda Comunque anche quest'arma è parecchio parecchio forte Il problema è che c'ho una fortuna che mi Mi cosano, mi vengono a A sparare in quattro persone Non riesco a ammazzarne uno ogni volta Ciao bello Ciao bello Comunque ragazzi Potete di tutto Ma la mia precisione Con le granate È qualcosa di devastante, eh Cioè sappiatelo Per carità Ti levi dal cazzo Mi fai un favore Rimortacci tua Senti io le prendo Andate per affanculo tutti quanti Ma avete rotto tre quarti di minchia Vaffanculo Schifoso 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 Massacratore Bravo scemo Bravo pirla Complimenti Ciao pezzi di merda Ciao pezzi di merda Andate a affanculo Da un'altra parte Schifosi La mia Non si tocca Non si tocca Questa mi fate Guardate mi fate uscire proprio Il coso Mi fate uscire Mortacci sua Questo mi è stata un'altra volta ammazzata Guarda tu Vabbè io scappo qua Eh ho capito Ma mi dovete lasciare un po' vive Cioè io pure voglio giocare Non è che posso sempre morire per voi Picazzi vostra E mi sono accorto ora che stiamo perdendo miseramente Cioè veramente uno schifo Questi c'hanno un buscio di culo che si porta a casa Certo che se usci Ma no Signor Sì No No vabbè L'ho preso a questo Avete visto che precisione Avete visto che precisione Sì o no Sì abbiamo qua Sì ma Vabbè Bravo Complimenti Così si fa Eh certo 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 Ma vaffanculo Ma io non è che Non è che so difendere i territori Devo fare tutto da solo Ogni volta Ma vaffanculo Un'altra volta Perlomeno abbiamo il tesoro delle ere Quindi Non è che poi andava tutto di merda Siamo arrivati i secondi Va benissimo così Non abbiamo droppato Naturalmente un cazzo Potevamo droppare un'arma Invece no Il gioco ha voluto Il primo ottenesse l'arma Il terzo Io no Perché sono un Secondo un gioco Un ebbete Forse c'ha anche un po' ragione Però vabbè Sti cazzi Signori L'episodio del crugiolo Termina qui Ma attenzione Prima bisogna andare A scartarci Il pacchetto incredibile Vediamo un pochettino Questo è il primo episodio del crugiolo Dove scartiamo qualche pacchetto interessante Perfetto Non abbiamo trovato un cazzo Quindi ci tocca andare alla torre Quindi prima di concludere Bisogna andare alla torre E andiamo alla torre Adesso guardate Che se non mi dà qualcosa di incredibile Mi hai fatto venire la torre E vieni qua per un cazzo Ti sputo in faccia Brutta amministratrice di merda Io te lo dico Servizio normale Mi dà un coso Va bene Un Un Ah Vabbè Guardate Guardate È bellissimo È fottutamente bellissimo Probabile che il mio cacciatore Il mio titano Adesso passerà da rosso A blu Questa colorazione è figa Va bene Dai Alla fin fine Pensavo peggio Cioè nel senso Comunque sia Sempre che ottenere Qualche pezzo di armatura Che non serve a un cazzo Guardate Preferisco così Adesso lo metto Immediato a mount Vediamo un attimo Come è dal vivo Insomma Perché Guazza che figa Guardate Quanto è figo Porco Due Aspettate che lo metto Con il mio set Di equipaggiamento Normale Quindi ci metto Questo Metto il rompicazzo Ci metto Dov'è 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 Questo Ok Mettiamo Questo Ali della rovina Vediamo un pochettino Come viaggia Questo lo eliminiamo A parte che lo potrei mettere Pure così Guardate che figo Eh Che figata Allora aspettate Aspettate Vediamo un po' Ecco qua Signori Mazza Quanto è figo Che poi il blu È il mio colore preferito Quindi Cioè Teoricamente Io lo lascio così Ma sì Ma sti cazzi Lo lascio così È proprio figo Proprio proprio figo Bene signori Spero che questo Episodio del crogiolo Vi sia piaciuto Se fosse stato così Vi ricordo di lasciare un like Commentare Ed iscrivervi al canale E da da Xperto è tutto Ci vediamo Nel prossimo video Sempre sono i piccioni Bella